di nuove riforme che peraltro sono necessarie quanto l'implementazione di riforme già approvate o che saranno approvate. Un paio di esempi. C'è un grosso problema, chiamiamolo così, di contenzioso tra Stato centrale e regioni che impedisce di sfruttare pienamente fattori di riforma come la riforma della scuola, come la riforma della pubblica amministrazione. Già una semplificazione di questi due campi così importanti, riduzione del contenzioso, vorrebbe dire un'accelerazione della messa in pratica delle riforme, un risparmio nel farlo e quindi un accorciamento dei tempi entro i quali i benefici delle riforme si comincirebbero a sentire. Questo è un processo generalizzato per non parlare poi dell'accelerazione del processo legislativo, in particolare per le leggi finanziarie, per la legge di bilancio e altri provvedimenti del genere, facilitare il fatto che il Senato non avrebbe più competenza. Quindi io vedo moltissimi benefici.